Casa e un euro per l'assegnazione agevolata di immobili del territorio comunale. Questo è il tema della mozione presentata dal consigliere comunale del gruppo misto Fabrizio Di Dio. L'obiettivo è quello di recuperare edifici, attirare investimenti in centro storico e garantire sicurezza e decoro sulla scia di esperienze vissute anche in altri comuni. Un progetto attuabile, una volta ultimato il censimento degli immobili abbandonati fatiscenti o pericolosi, si legge, iniziato dall'allora assessore architetto Milazzo della Giunta Campisi. Agli acquirenti verrebbero dati dei termini per effettuare gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza necessari, chiedendo una fideiussione a garanzia. Intervenire con un progetto casolino incentivando la possibilità di vendere queste case alla cifra simbolica di un euro, quando troviamo la volontà del proprietario, poi possiamo dare la possibilità sia a persone locali sia a cittadini locali, ma anche a stranieri, provenienti da qualsiasi parte. Così possiamo anche incentivare un vantaggio non solo economico, perché c'è sicuramente un indotto economico, ma anche culturale. Questo è chiaro che non è una riqualificazione concreta del centro storico, ma è un inizio che chiaramente poi deve essere supportato da interventi di standard urbanistici che vanno rivisti, vanno ridimensionati per le nuove esigenze. È stato redatto un regolamento allegato alla mozione che io ho presentato il 17 giugno e ovvio mi sono rifatto a tutte le altre esperienze, quindi non è un regolamento che nasce dal nulla. Però è chiaro che verrà discusso in Consiglio Comunale, cercando anche di migliorarlo laddove c'è necessita qualche miglioria, ma l'obiettivo principale è quello di riqualificare, di recuperare il nostro tessuto del centro storico dove ci sono appunto dei fabbricati che in questo momento sono in stato di abbandono.